Saluto e buon venito alla mia nuova Semenhoffa Medito. Adesso mi voglio parlare per il Neutralizio. E la parola di Semenhoffa inaugurata alla tria congresso del 1907 del tema per il congresso in Cambridge. E la parola di Semenhoffa inaugurata alla tria congresso del 1907 del tema per il congresso del 1907 del tema per il congresso. E la parola di Semenhoffa inaugurata alla tria congresso del 1907 del tema per il congresso del 1907 del tema per il congresso del 1907 del tema per il congresso. E la parola di Semenhoffa inaugurata alla tria congresso del 1907 del tema per il congresso del 1907 del tema per il congresso del tema per il congresso del tema per il congresso. E' molto interessante, la parola di Semenhoffa. Neutralizio è la parola di Semenhoffa. Neutralizio è la parola di Semenhoffa. 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 un'occasione parola con i giornalisti a questo tempo. Mi penso che questo è un grande affetto. E questo messaggio è molto forte. Io senza l'esperanza identità starò anche gli altri. E stiamo orientando gli altri nivelli dell'identità delle persone di Lousamnof. E questo è molto forte. E io non so, per dire, questo è un valore per molti esperanti parolanti. E non per me, non so. Mi voglio invitovi a meditare per questo. Lo che è stato il ruolo di questo neutralismo della interagentità e dei relati. A parte nel nostro mondo che che è un'esercizio che è giusto di nazismo l'asta tempe. No. Pensate che è sufficiente per la tua vita? No, mi invito a voi segui la meditazione ciam e doni reagire. Se voi non si subtenere e doni reagire. E do. Diz morgo. E quel ciam antauen sin fine.